Il verdetto del Tar ha ufficializzato la destinazione assegnata dall'autorità portuale alla banchina cortese, respingendo l'istanza di tutela cautelare avanzata da figure di spicco come Cosimo Depinto, Antonio De Leonardo, Andrea Grenci, Carmelo Finelli, Luciano De Leonardo e Andrea Gambardella. Questi ultimi, con il ricorso, miravano ad annullare l'ordinanza emessa a novembre dal presidente dell'autorità di sistema portuale dei Maritirrenio Meridionale Ionio. L'esito giuridico ha sciolto il nodo centrale della controversia, ma tra alcuni pescatori permane un certo sentimento di dissonanza. Affermano che, nonostante la risoluzione legale, ci sia ancora qualcosa che stride nella vicenda, un sottotesto di incertezza che permea le acque, almeno secondo la percezione, di alcuni operatori del settore ittico. Nel delineare il nuovo scenario della marineria, i pescatori sottolineano l'impegno in un lavoro condiviso all'interno della propria categoria. Proiettano lo sguardo verso il futuro, evidenziando un incontro avvenuto il 26 gennaio presso la Capitaneria di Porto. A questa riunione hanno partecipato cooperative di pesca, rappresentanti regionali e comunali, insieme al dirigente del quinto settore caccia e pesca. Durante questo incontro, il dirigente ha illustrato alle comunità di pescatori le prossime opportunità di accedere ai fondi FEAMPA in procinto di essere stanziati. Non solo, ma l'autorità portuale presente alla riunione ha accolto pienamente le richieste dei pescatori, impegnandosi a pianificare azioni future che rispecchiano le esigenze delle comunità marittime. In un contesto più ampio, il commissore dell'ente Parchi Marina, il dottor Greco, ha dileniato le prospettive e le opportunità per il settore della pesca. Il suo intervento ha fornito uno sguardo esplorativo su come l'industria ittica possa prosperare in armonia con la tutela ambientale. In tal modo, la riunione ha offerto uno spaccato dettagliato del coinvolgimento attivo di varie istituzioni nel plasmare il futuro della marineria, offrendo uno spiraglio di speranza in un orizzonte ancora incerto.